Ciao a tutte ragazze, allora questo è un video in collaborazione con Sara Kawaii ed è il video tag sulla Squishy Collection allora colgo l'occasione per farvi vedere questo anello a gatto che non si è visto nel video acquisti non metto a fuoco, aspettate questo qui, non lo metto a fuoco ok, è così, mi piace veramente un sacco e cominciamo subito con la collezione di Squishy allora c'è questo qua, che in teoria è di mio marito che anche lui l'ho contagiato con gli Squishy e questo panino con il ketchup ora arriverà a mia figlia e mi li libera a tutti poi c'è questo fatto a plum cake con il ciuffetto di panna e l'ananas questo me l'ha regalato mio marito poi questo Squishy Macaron questo l'ho comprato da Alta Marea veramente morbidissimo questa cake roll questa mi è stata regalata dalla negoziante perché gli mancava la crema quindi ho detto, vabbè ti entro, regalo me l'ha regalato poi c'è questa bellissima ciambella che mi ha regalato Margaret nel nostro ormai swap è riduttivo è uno scambio di regali ormai il nostro questa bellissima ciambellina viola con la mora ecco mia figlia che vuole tentare di rubarmi gli Squishy questa coppetta gelato arancione anche questa adesso è Squishy solo da qui perché poi è di plastica Vanessa un attimo tesoro fammi fare il video poi c'è questo mega enorme gigantissimo panino morbidissimo però non c'è passata mia figlia e quindi è un po' così e c'è il Viewster dell'insolata e questi sono tutti gli Squishy calamita poi sempre con Margaret ho comprato questo bellissimo Squishy a specchietto che ce l'ha anche lei ma iniziate me lo rompi Margaret mi ha regalato questo stupendissimo Squishy ban lì di Lacuma tieni e questo bellissimo Squishy con il sorriso che lo adoro sono stati i miei primi Squishy ban e il più bello di tutti lo Squishy panda cioè questo veramente lo amo mamma mamma grazie Margaret ancora grazie Margaret per questi bellissimi Squishy davvero poi questo che ho vinto nel giveaway di Fimo Kawaii Fimo Mania di Fefe Conti che mando un grossissimo bacio anche a lei e questi due che è Cioppina che sono Jambon questi morbidissimi davvero che sono Cioppina e Ciocco questi li ho acquistati da Francesca che sarebbe Pink Vanilla Creazioni mamma e niente ora vi faccio vedere la collezione di Squishy ora te li rendo amore ora te li rendo questa è la collezione di Squishy e niente vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video ciao ciao